Per il quarto anno consecutivo Lecce ha ospitato le giornate del lavoro della CGL. Per tre giorni il capoluogo Salentino è stato al centro della discussione del tema Il cambiamento è. Ma la CGL è forse l'unica organizzazione sociale e politica che in questi anni ha più volte segnalato come la ripresa del paese passa inderogabilmente attraverso una crescita del mezzogiorno. Un'attenzione concreta a questi territori attraverso una elaborazione programmatica. Di un'agenzia, di un luogo che coordini le idee e investe le risorse è prima di riflettere sulle compatibilità territoriali e anche sulle grandi potenzialità che i nostri territori hanno. Bisogna investire in innovazione, ricerca, formazione, istruzione. Bisogna valorizzare i nostri prodotti agricoli. Bisogna puntare sul turismo, un turismo di qualità. Bisogna puntare sull'industria perché l'industria fa anche occupazione, fa PIL, ma l'industria è compatibile con l'ambiente, un'industria che sia innovativa e che competa per i prodotti. Non c'è via d'uscita da una necessità di investire in termini di sviluppo compatibile con l'ambiente e che tenga conto anche delle potenzialità del territorio. E noi diciamo che se si fa questo nel mezzogiorno si fa il bene del paese. Abbiamo enormi spazi da recuperare. Siamo ancora su livelli occupazionali e su livelli di PIL, ancora dobbiamo recuperare i livelli precristi. Siamo in un gap che aumenta sempre di più tra il nord e il sud del paese, ci allontaniamo sempre di più dall'Europa. Quindi è evidente che c'è ancora molto da fare. Anche sui dati che potrebbero, ovviamente ci confortano, penso ai temi dell'occupazione, a quale aumento di PIL, di livelli occupazionali, ma stiamo e continuiamo a ragionare ancora di lavoro precario, di lavoro instabile, di lavoro povero, di uomini e donne che lavorano e continuano ad essere poveri. Non è questa la prospettiva di un sindacato come il nostro, non può rassegnarsi a questa prospettiva la Puglia e il mezzogiorno. Segretario, focus sulla contrattazione, cosa si deve fare in questo settore? Provando anche ad estendere i diritti a chi non ce l'ha, partendo magari dal mettere insieme mondi di lavoro differenti. Noi spesso intrecciamo, incrociamo mondi all'interno dei quali sullo stesso luogo di lavoro i lavoratori svolgono le stesse funzioni e non hanno gli stessi diritti, non hanno gli stessi salari. Quindi provare a mettere insieme i lavoratori, ricostruire, unificare il mondo del lavoro attraverso la contrattazione e provare a costruire quella cornice di diritti che possa dare dignità al lavoro. Il mezzogiorno quindi rappresenta una priorità anche per il governo. Bisogna investire al sud per far ripartire lo sviluppo del paese. Lo ha ribadito con forza il ministro per la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, intervenuto al convegno inaugurale. Per questo è centrale, come sostiene il segretario generale della CGL Maurizio Landini, il tema delle infrastrutture. Sicuramente sì, è una delle rivendicazioni che noi facciamo da tempo. Tra l'altro la manifestazione che abbiamo fatto unitariamente il 22 di giugno a Reggio Calabria poneva proprio questo tema. Bisogna soprattutto cominciare a spendere i soldi che sono previsti, a partire dai fondi europei che non vengono spesi, a partire da investimenti. Quando si parla di investimenti per noi si parla di infrastrutture, che vuol dire strade, che vuol dire ferrovie, che vuol dire anche digitale. E allo stesso tempo significa anche un piano straordinario di investimenti per le infrastrutture sociali, che vuol dire asili, che vuol dire ospedali, che vuol dire scuole. E poi investire sulla ricerca e sull'innovazione perché serve anche una politica industriale che faccia ripartire gli investimenti in questa zona. Vuol dire cominciare a pensare l'Italia come un grande polo logistico per il Mediterraneo e vuol dire anche investire sul turismo e sulla cultura con un'idea che valorizzi quelle che sono le competenze, il saper fare. Ci vuole una visione d'insieme e in questo contesto bisogna anche che la smettano e dicano una parola fine su un'idea di autonomia differenziata che dividerebbe ulteriormente il Paese perché investire nel mezzogiorno vuol dire unire il Paese, non dividerlo perché siamo già abbastanza divisi e siamo già abbastanza frantumati. Ma a Lecce si è anche parlato di diritti, legalità e inclusione. Ci ha pensato Don Giotti, il fondatore di Libera, ad indicare al Governo gli obiettivi da perseguire. Significa che dobbiamo recuperare una parola che non può essere solo pronunciata ma tradotta concretamente, l'urgenza. C'è bisogno che un'urgenza di politica che diano dignità e lavoro a tutte le persone. L'obiettivo non è un reddito per le persone, è un reddito fondamentale di fronte ai bisogni ma il diritto del lavoro per tutti. Il mio sogno, che deve essere il sogno di tutti, è di fare in modo che migliaia di giovani che hanno studiato, che sono stati costretti a immigrare, che hanno acquisito delle competenze e delle professionalità, possano tornare nel loro sud, in quei territori dove loro amano e sono stati costretti a lasciarli. Ieri ero in Calabria, in una terra complessa, difficile e ho lanciato, nel ricordo del piccolo Dodò, ucciso dieci anni fa, questo bambino su un campo di calcio, ho lanciato proprio con forza che dobbiamo, e la politica deve fare in modo che i giovani possono, questi giovani possono tornare per arricchire la loro terra, che ha bisogno di loro, hanno voglia, hanno voglia, è possibile che non si riesca a trovare delle modalità per dare dignità alle persone attraverso uno strumento fondamentale che dà libertà e dignità che è quello del lavoro. Noi parliamo del lavoro, parliamo del reddito per le persone, ben venga, ma nelle situazioni particolari, ma dobbiamo avere lavoro per tutti, perché la nostra Costituzione, nell'articolo 1, è quello che crea le condizioni per che sia un paese democratico fondato sul lavoro. Noi abbiamo milioni di persone che sono a spasso e soprattutto abbiamo tre grandi dimensioni su cui dobbiamo mettere testa, perché le tre grandi realtà su cui dobbiamo mettere testa sono i poveri, i migranti e i giovani, perché i giovani sono diventati una povertà. Abbiamo due milioni più di giovani che hanno studiato e non trovano lavoro. Facciamo in modo che ci siano meno parole e concretamente più fatti. Abbiamo una povertà relativa di oltre 9 milioni di persone. L'Ista ci ha parlato di un milione e duecentomila bambini che vivono una povertà assoluta. Abbiamo un povertà assoluta. Abbiamo 5 milioni che vivono una povertà assoluta nel nostro paese. È il paese che noi amiamo, paese per il quale dobbiamo lottare. È il lavoro, è uno strumento importante e fondamentale perché dà libertà e dignità alle persone. Penso alla contrattazione del settore agricolo, a quello che può rappresentare all'interno di quel mondo, la capacità nostra di competere sulla qualità di quei prodotti che noi produciamo sui nostri territori e non competere sulla lesione dei diritti. Ovviamente penso al caporalato, a quello che significa in termini di sfruttamento. Quindi convincere le istituzioni rispetto a una più celere applicazione dell'allergia 199 contro il caporalato. Ragionando in termini di prevenzione, quindi un ruolo che noi chiediamo attivo delle istituzioni. Penso al sistema del controllo preventivo. Per noi il punto oggi è far diventare i contratti nazionali di lavoro lo strumento che tutela e regola i diritti e i rapporti per tutti. Basta competizione tra lavoratori. I lavoratori e le lavoratrici, qualsiasi rapporto di lavoro hanno, debbono avere gli stessi diritti e le stesse tutele. La concorrenza si deve fare sulla qualità dei prodotti, sull'innovazione, sulla ricerca, non più sulla pelle delle persone. Altro tema nelle giornate del lavoro a Lecce è l'autonomia differenziata regionale che si farà nel solco della Costituzione, così come ha ribadito il ministro per gli affari regionali e delle autonomie, Francesco Boccia, che ha inoltre ribadito la centralità del Sud. Vorrei che non ci fossero pregiudizi. Noi abbiamo assunto un impegno molto chiaro, l'autonomia differenziata la faremo, ma la faremo nel solco della Costituzione. Deve essere chiara una cosa, che la bilancia regge se i pesi reggono. Se sono sbilanciati è evidente che la bilancia non regge e mi pare di poter dire che nel governo precedente la bilancia non aveva retto perché i pesi erano saltati. Ovviamente per costruire un'autonomia differenziata in un paese coeso bisogna avere ben chiaro tutto quello che la Costituzione dice. La Costituzione pretende che i livelli essenziali delle prestazioni vengano assicurati, indipendentemente da ceto e censo a tutti gli italiani, indipendentemente dalla collocazione geografica. Lo dico perché non è una cosa tra nord e sud, è tra nord e nord e tra sud e sud. Ci sono aree più povere di altre ovunque e noi la intendiamo così. L'autonomia differenziata sarà una lotta senza quartiere e diseguaglianza. Questa è l'impostazione che chiederemo. Il nord ha bisogno di un sud che riparte. Questa è una cosa che abbiamo sempre detto. La presenza della CGL qui a Lecce per le giornate del lavoro ne è una testimonianza. Noi non possiamo pensare che il dibattito si esaurisca nelle stanze della classe politica e quando tocchi con mano le stanze che ti arrivano dalle visce della società scopri che senza sud il paese non va da nessuna parte. Io penso che il nord abbia bisogno di un sud forte e il nord lungimirante lo chiede da anni e purtroppo non lo ha ottenuto. Quello di Lecce è stato un evento interessante che si è concluso con la partecipazione del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Un'edizione dei numeri importanti, fra ospiti, delegati e iscritti, sono arrivate 1.500 persone. Il segretario generale Maurizio Landini ha annunciato che anche il prossimo anno l'evento si terrà nel capoluogo salentino. Le giornate del lavoro sono diventate un appuntamento importante dell'agenda politica, economica e sociale del paese in cui parlare del lavoro da ogni punto di vista, ha spiegato il segretario della CGL Lecce Valentina Fragassi. Che cambiamento chiede il Salento a questo nuovo governo? Chiede un'inversione di tendenza soprattutto rispetto alle necessità delle persone. La prima necessità io credo che sia un lavoro buono e di qualità. Risolvere i problemi, le centinaia di crisi che ci sono nel Salento, il problema dell'axilella, il problema del caporalato, problemi annosi che pesano su questo territorio e impediscono lo sviluppo di questo territorio. Risolvere i problemi, le centinaia di crisi che ci sono nel Salento a questo territorio. Il problema dell'amore, il problema dell'amore, il problema dell'amore. Risolvere i problemi annosi che ci sono nelle persone che ci sono nel Salento a questo territorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti